Centinaia di peluche, un gigante orso da abbracciare e fotografare, tante storie da ascoltare, regalare e colorare. È la casa dei pupazzi e delle storie di Natale, un piccolo locale del centro storico di Molfetta, trasformato in un luogo di dolcezza dedicato ai bambini. Si tratta del nuovo progetto culturale di conversazioni dal mare e artemi eventi, che rientra in Magie di Natale, il programma ad iniziative pensate dalla Proloco per portare l'atmosfera natalizia nel borgo antico della città. Un'attenzione particolare nei confronti dei più piccoli e dei bambini speciali di questa città. Stasera stanno leggendo delle belle storie, sono tutti contenti, l'amministrazione è attenta alle esigenze di tutti, non lasciamo nessuno indietro e i loro sorrisi, la loro felicità portano gioia nel nostro cuore. La casa sarà visitabile il 15, il 16, il 17 dicembre e rimarrà aperta fino al 23. Oggi iniziamo con l'apertura della Casa dei Giochi, che è un allestimento orientato a far conoscere, a far avvicinare i bambini ai giochi del periodo natalizio e quindi all'atmosfera di Natale. Domani, dopodomani, fino a domenica avremo le iniziative previste nel nostro programma, che comunque potrà scaricare e vedere dalle nostre pagine social. Un programma molto ricco che prevede anche il food, la visita ai portoni, mostre d'arte nei portoni adeguatamente allestiti, musica e intrattenimento per grandi e bambini, nella tradizione che ormai la Proloco intende portare avanti anno per anno il periodo natalizio.